La visita alla parte degli scavi e la sovrintendenza sta preparando anche un volume rispetto agli scavi che non parla della Mornalisa perché quello sta in un altro volume che invece sarà pubblicato a parte rispetto a questa fase. Quindi ci sarà una pubblicazione che spiegherà questi scavi perché sono di particolare interesse archeologico perché in qualche modo danno un'idea di qual era, di qual era, come erano formate le chiese minori fiorentini. Quindi a un grande interesse per esempio attraverso gli scavi e non sapevano, non sono trovati qui dei dati e dei riferimenti non conosciuti come per esempio la chiesa c'era un'altare dalla parte opposta, quanto era più importante la chiesa lo sapevano come sembra, ma poi certe parti interne di come all'interno di una storia venivano fatte le sepolture. Quindi su questo ci sarà un volume che conterrà anche tutti i rilievi sulle monete trovate, le pedagliette trovate lì sotto per far capire certi tipi di collegamenti.